le parole hanno un grandissimo potere le parole possono ferire aiutare allontanare motivare ogni volta che noi pronunciamo delle parole si crea nella nostra mente e contemporaneamente anche nella mente della persona con cui stiamo parlando l'immagine corrispondente alla parola che stiamo pronunciando quindi dobbiamo stare veramente molto attenti ad utilizzare il potere della parola nella direzione che abbiamo deciso di percorrere le parole permettono di creare nuovi scenari per esempio proviamo a dire a qualche persona prova a non pensare a un cane immediatamente nella mente di queste persone si formerà l'immagine di un cane proprio perché gli è stato detto di non pensarlo e poi è soggettivo il significato che l'immagine del cane può avere per ciascuno di noi per qualcuno può rappresentare la fedeltà per qualcuno può essere un punto di riferimento significativo per qualcuno un cane può essere quello che dà il senso di protezione per qualcuno il cane rappresenta la paura per qualcuno l'aggressività tutto questo sulla base delle esperienze che ciascuno di noi ha fatto nella vita e delle interpretazioni che ha dato delle varie realtà che ha incontrato la valenza suggestiva della parola cioè la suggestione che la parola può suscitare nella mente di ciascuno dipende dalle esperienze del singolo esistono però parole che nella maggioranza dei casi hanno una valenza o positiva un po' per tutti o negativa un po' per tutti cioè sono parole che suggeriscono lo stato d'animo da provare nel momento che le si ascolta come reagire o quale comportamento avere vediamo prima di tutto la le parole che suggeriscono una suggestione negativa per esempio iniziare una conversazione con certe parole con certe espressioni porta ad influenzare negativamente la persona con cui stiamo parlando perché provoca la sua provoca in lui un fastidio per esempio se noi entriamo in un ufficio e diciamo subito alla persona spero di non infastidirla mettiamo subito male la situazione perché la persona subito capisce che c'è una forte probabilità di essere infastidito dalla nostra presenza e quindi è un modo non molto conveniente per iniziare il discorso fa scattare il fastidio evidentemente chi inizia così la frase sta per dire qualcosa di sgradevole oppure quando ci si avvicina a qualcuno e si dice scusi le rubò un minuto ecco anche la parola rubare trasmette a chi ascolta l'idea che chi ha detto le rubò un minuto stia per farti perdere del tempo e quindi pone subito la persona che ha detto le rubò un minuto in una condizione di inferiorità cioè come se fosse qualcuno che non merita la propria attenzione perché sicuramente farà perdere del tempo altra maniera negativa non vorrei che lei pensasse che sono qui per ingannarla e già tutto questo giro di parole fa immaginare che tu abbia intenzione di ingannare la persona con cui stai parlando anche se il dubbio non c'era questo modo di iniziare la frase fa scattare subito il sospetto oppure iniziare così non vorrei annoiarla ma adesso le racconto che non vorrei annoiarla già fa capire che è molto probabile che si stia per ascoltare un discorso molto molto noioso allora durante una conversazione possono emergere anche altre espressioni negative quindi non solo all'inizio che peggiorano la situazione per esempio non credo di farcela oppure mi costa troppo sacrificio questa cosa spero di non sbagliare mamma mia quanta insicurezza che dimostra la frase spero di non sbagliare oppure ci proverò ma non sono sicuro di riuscire le carenze sono tante e insuperabili mamma mia questa sembra proprio lapidaria ci sono sempre solo problemi la vita è dura e bisogna sempre lottare per ottenere il minimo questo è proprio è terribile cioè sembra quasi una sentenza di condanna alla miseria lei avrà sicuramente un'immagine negativa di me ma io volevo dirle che ecco se uno dice così già suscita la voglia di avere un'immagine negativa di lui è impossibile risolvere questo guaio anche questo è un modo molto sbagliato per iniziare perché non dà fiducia nella possibilità di riuscire allora frasi di questo tipo condizionano non solo la persona con cui stiamo parlando ma anche io ma anche me stessa che le pronuncio perché utilizzo dei codici linguistici che riflettono i miei pensieri e quindi evidentemente se io comincio una frase in questo modo sto dimostrando di pensarla in questo modo e quindi di avere un atteggiamento un approccio negativo nei confronti della realtà ci sono anche alcuni verbi alcune parole specifiche che hanno una valenza negativa come sperare cercare forse però trasmettono incertezza oppure usare molto spesso il pronome io crea una barriera con l'altro no ma io penso che fa da proprio l'impressione di una separazione no evidenzia una persona fragile insicuro forse infantile parole con una valenza negativa molto forte sono anche il no oppure non perché ma questo ci viene dall'infanzia no vi ricordate tutti quando eravate piccoli quante volte vi è stato detto non toccare oppure non sporcarti no non puoi andare a giocare no non puoi uscire ecco ci siamo tante volte abituati a sentire queste frasi in un modo che ci è sembrato ovviamente sgradevole che il no ci ha condizionati certo il no a volte serve per crescere per diventare più forti tutte le cose che ci sono negate ci hanno permesso di elaborare poi delle frustrazioni quindi diventare degli adulti o degli adolescenti maturi consapevoli però chi in quel momento sta comunicando deve utilizzare il no con consapevolezza perché il no ha un effetto dirompente nella persona con cui si sta parlando e quindi bisogna saper dire il no ma spiegando concretamente le motivazioni di questa di questa affermazione ecco vediamo ora invece alcune parole con le quali iniziare una conversazione che abbiano invece una valenza positiva allora la con cui la comunicazione acquisisce efficacia quando anche se si parte da situazioni difficili o anche negative le parole riescono a portarla verso qualcosa di positivo di gradevole la trasformazione non non implica che sia necessario cambiare i contenuti perché per esempio se devo rimproverare un collaboratore un dipendente una persona con cui sono in un rapporto di lavoro non posso gratificarlo dirgli bravo hai fatto un ottimo lavoro l'azienda ha avuto dei grandi vantaggi grazie al tuo no devo comunque rimproverarlo ma la scelta dei termini che utilizzo può orientare in un modo diverso la percezione di ciò che sto dicendo e quindi posso rivolgermi alla persona in modo da stimolare la sua la sua ricerca di una soluzione oppure stimolare il suo coinvolgimento in un'attività di gruppo in un'equipo nello spirito di squadra quindi per esempio posso passare dall'io al noi invece che dire il progetto che ora vi presenterò si articola in queste fasi ecco il io vi presenterò fa veramente pensare a una separazione no tra chi parla e le persone che ascoltano invece se dico il progetto che ora vedremo insieme si articola in queste fasi allora che vedremo insieme fa percepire l'inclusione del della persona che sta parlando nel gruppo di quelli che ascoltano e quindi un senso di appartenenza crea un senso di coesione di solidarietà anche di speranza di emozioni positive altri esempi di parole che hanno immediatamente una valenza positiva sono tutte quelle che sono molto utilizzate dalle aziende al giorno d'oggi crescita sviluppo risultato possibilità di alternative vantaggi svantaggi vabbè svantaggi poco successo interesse opportunità soluzioni tutte queste parole nei discorsi dei grandi manager sono presenti perché stimolano a credere in un futuro migliore in un miglioramento no parlare di soluzioni parlare di sviluppo parlare di risultati di successi porta veramente a credere in un miglioramento imminente e quando è possibile è meglio coniugare i verbi al presente o al futuro e non al passato dire ma io ti proporrei una soluzione caro collega è molto meglio ti propongo una soluzione oppure ti porterò a fare questo a passare a superare questo ostacolo ecco non ti porterei a superare questo ostacolo ti porterò cioè trasmette più certezza è molto è molto rassicurante ecco anche i rimproveri possono essere espressi in una maniera positiva o negativa un rimprovero può essere può essere espresso in maniera comunque incoraggiante per il collaboratore e il collega per esempio si può dire invece che stroncare subito la collega si può dire è necessario che ci confrontiamo per trovare insieme una soluzione che ti aiuti a affrontare meglio questa dinamica che si è creata nell'ufficio ecco allora per la prossima volta vi lascio questa scheda di compiti da fare nella quale ci sono alcune frasi espresse in modo che creino suggestioni negative e c'è uno spazio nel quale voi dovete trasformare le stesse frasi in positive buon lavoro e buona settimana grazie a tutti